Presentato ad Alessandri un anno di attività della Polizia Municipale, l'attenzione è rivolta soprattutto sull'aumento esponenziale degli incidenti stradali. In seguimento ieri sera nelle vie centrali di Alessandri ha fermato un uomo di 62 anni di origini albanesi con il permesso di soggiorno scaduto, sfrecciato con la sua auto senza fermarsi più volte ai semafori rossi. Notizie rassicuranti per i sindaci del territorio lungo l'autostrada A26, secondo il gruppo Autostrade per l'Italia da maggio stop a molti cantieri per agevolare il transito e il turismo. L'idrogeno sarà il vettore energetico del futuro, l'Università del Piemonte orientale capofila di un progetto nazionale per il suo stoccaggio, come sentiremo, tutto parte da un semplice rifiuto. Un ben ritrovato a voi tutti cari telespettatori, come avete sentito dal primo titolo ci occupiamo del bilancio di un anno di attività della Polizia Municipale, c'è stata la conferenza questa mattina in aumento, come sentirete nel servizio di Cristiana Zanetto, il numero degli incidenti stradali, tre al giorno se ne registrano e poi c'è anche un'attenzione rivolta come sempre all'eccesso di velocità e alla guida in stato di ebrezza. Sentiamo. I numeri a volte possono semplificare un concetto più di tante parole. A Torino ci sono 1500 vigili per 1400 incidenti, ad Alessandria gli operatori di Polizia Municipale sono 64, gli incidenti 1013. Insomma gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria sono ancora pochi ma nei prossimi tempi verranno ulteriormente implementati. D'altronde nella conferenza stampa di oggi che il comandante della Polizia Municipale Alberto Bassani ha tenuto insieme al vice sindaco Marika Barrera, l'assessore alla Polizia Locale Enrico Mazzoni, sono stati proprio i numeri a farla da padrona per fotografare la realtà cittadina. Quello che emerge prepotente è un aumento costante degli incidenti stradali. Non siamo ai livelli del 2004 ma le statistiche ci parlano di numeri decisamente in aumento. 57 mila le violazioni al codice della strada di cui 4821 per eccesso di velocità con misuratore sul posto e 10 mila con rilevatori semaforici. Quasi un centinaio le persone che girano senza assicurazione dell'auto. I punti decurtati in un anno sono stati 34.372, gli incidenti sono 1036 di cui 5 mortali e 276 conferiti. Ed i numeri parlano chiaro anche per quanto riguarda gli illeciti edilizi. Su 125 cantieri controllati 100 sono state le notizie di reato. Addirittura c'era chi stava per costruirsi una piscina senza chiedere i permessi. Lo stesso per quanto riguarda l'attività di controllo ambientale. 356 gli illeciti amministrativi di cui 5 penali. Nei prossimi anni dovrebbero entrare in funzione i semafori con il conto alla rovescia così come richiesto dalle normative e verranno posizionati anche i varchi elettronici nella ZTL. Sanzioni sì tante ma non per fare cassa. Ha ricordato l'ufficio sindaco oltre il 50 per cento delle infrazioni al codice della strada vengono reimpiegate per migliorare le misure di sicurezza. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale l'uomo che ieri sera è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento per le vie del centro di Alessandria. Si tratta di un 62enne di origini albanesi con il permesso di soggiorno scaduto. L'uomo aveva parcheggiato l'auto in via Lodi davanti a un passo carrabili. Quando gli agenti hanno notato il veicolo oltre alla multa hanno chiamato il carro attrezzi per rimuovere la vettura ma il 62enne arrivato poco prima della rimozione ha dichiarato che l'automobile era la sua e quindi di non effettuare l'operazione. Poi è salito a bordo dell'auto ed è fuggito a tutta velocità. Da qui è iniziato un inseguimento per le vie del centro dove l'uomo ha anche bruciato diversi semafori rossi. La fuga è poi continuata a piedi fino in via Alessandro III e sono proprio le foto di riferimento dove è stato finalmente bloccato dai poliziotti. La comunità di Castelnuovo Scrivia nelle Tortonese in lutto per la tragica morte di Edoardo Riva De Onestis, deceduto a soli vent'anni ieri mattina poco prima delle sei in un incidente stradale. Il giovane stava recandosi a lavoro ai monopoli di Rivalta Scrivia di Tortona quando forse per un colpo di sonno si è schiantato contro un albero morendo poi carbonizzato. I suoi amici di sempre sconvolti ieri sera hanno organizzato questa fiaccolata in piazza Vittoria Emanuele a Castelnuovo che appunto state vedendo. In tanti hanno partecipato al momento di raccoglimento. Solo il giorno prima Edoardo aveva esordito in campionato come secondo portiere del Salice Ballestaffora, squadra che milita in terza categoria e nella quale era entrato a gennaio. Questa sera alle 20.30 al Rosario nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo dove domani alle 15 sarà celebrato il funerale. Edoardo lascia la moglie Raffaella, il papà Luciano e la sorella di 14 anni Sara. E proseguiamo ancora con la cronaca. Arrestato un cittadino extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti dalla Guardia di Finanza di Torino. L'uomo era stato sorpreso mentre stava cedendo alcune dosi di droga a un cinquantenne originario della zona all'interno della sua autovettura ricevendo in cambio denaro contante. Quando si è reso conto di essere stato notato dai militari il responsabile ha tentato la fuga per sottrarsi all'arresto ma è stato bloccato in tempo. In suo possesso sono state sequestrate un centinaio di dosi di eroina e 70 di cocaina pronte per la vendita e quasi 1000 euro in banconote di piccolo taglio frutto di precedenti cessioni di stupefacenti. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Ivrea. Voltiamo pagina. Un alleggerimento dei cantieri a fine maggio per favorire il turismo estivo e poi una ripresa in autunno per concludere i lavori lungo la A26 entro la fine dell'anno. E questo quanto è stato promesso dai vertici ASPI che è l'associazione italiana delle autostrade ai sindaci del territorio che sono interessati e hanno le loro realtà proprio lungo questa direttrice autostradale. Fabrizio Mattana ha parlato di questo con il sindaco di Ovada Paolo Lantero. Ascoltiamolo. È stato piuttosto soddisfacente in termini di risposte il tavolo di confronto fra i sindaci di Ovada e della Valestura con i vertici di ASPI ai quali sono stati sottoposti gli enormi disagi causati agli automobilisti dei tanti cantieri. Sindaco Lantero, un incontro quindi molto positivo. Abbiamo potuto colloquiare con i tecnici che non si sono certamente tenuti nulla dentro hanno davvero raccontato la complessità di questa opera e in generale dell'opera di ristrutturazione sono partiti da molto distante quando effettivamente è stata fatta la prima parte che è stata la verifica delle strutture in cemento sia delle gallerie che dei ponti insomma quindi nel 2020 e poi avanti raccontandoci anche appunto quello che capita rispetto ai manuali di intervento che si devono fare secondo le regole che ahimè cambiano, cambiano molte volte in brevi tempi che sono un grosso problema per loro. Abbiamo potuto notare il Road Zipper che è questo nuovo sistema che abbrevia il tempo in cui si spostano le corsie di marcia insomma abbiamo provato a fotografare quelle che sono i disagi che questa zona vive da anni pur comprendendo appunto, e l'abbiamo visto, vogliamo anche prenderci l'onere di testimoniarla a tutti la complessità della questione. In ultimo direi sostanzialmente che abbiamo saputo che ci saranno ancora due grossi interventi su due gallerie verso Vada da Amazone e però abbiamo avuto come indicazione probabilmente una diminuzione dei tempi di termine dei lavori a fine anno, ce lo auguriamo. Una questione che abbiamo potuto sapere che in realtà e che abbiamo in modo determinato chiesto è il riavvio della gratuità del pedaggio, insomma pensiamo che in queste condizioni sia giustificabile una richiesta quale quella dell'azzeramento delle tariffe di passaggio sull'autostrada. In questo caso però entrano in gioco altri attori, non solo Aspi, certamente la regione, certamente la città metropolitana di Genova e poi il Ministero. Una situazione quella delle autostrade che va a braccetto con quello della linea qui a Genova? Conosciamo tutti i problemi della linea, benché ci sia in questo momento una previsione di un grande intervento, ad oggi l'intervento non c'è ancora e quindi subiamo i disagi di una linea antica che per anni forse non è stata manutenuta come andava manutenuta. In tutti i casi siamo sempre fiduciosi in un futuro che si prospetta quantomeno di investimenti. Chiusa adesso la politica, chiusa le votazioni nei circoli PD con la vittoria di Stefano Bonaccini e di Ellis Lane. Domenica il ballottaggio delle primarie sceglierà chi dei due sarà il prossimo segretario nazionale DEM. Potrebbero diventare decisivi a questo punto i voti del terzo classificato Gianni Cuperlo che ha superato l'11%. In Piemonte Cuperlo ha ottenuto anche di più, ossia quasi il 12% e questa sera i suoi sostenitori si riuniranno per decidere se sostenere uno solo dei due candidati oppure se ci sarà il voto libero. Domenica i seggi per le primarie saranno aperti anche ai non iscritti PD dalle ore 8 alle 20. Ma ci spiega tutto meglio Dede Vinci. Domenica 26 si terranno le primarie del PD. Si sceglierà il nuovo segretario nazionale che dovrà poi condurre il partito democratico verso un congresso di rifondazione resosi necessario dopo il calo di consensi registrato da IDEM alle ultime elezioni e che aveva poi portato alle dimissioni di Enrico Letta. Alla fine la sfida sarà tra Stefano Bonaccini e Ellie Schlein. Alle votazioni appena concluse che si sono tenute nei circoli, ma solo per gli iscritti al PD, hanno infatti prevalso in maniera piuttosto netta su Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Domenica 26 invece per il balottaggio che sarà in tutta Italia le votazioni saranno aperte anche a chi non è iscritto al PD. In provincia dell'Essandria saranno 32 i seggi. Le previsioni sull'esito finale non sono più così certe come sembrava un mese fa. Nei circoli il più votato è il risultato Bonaccini, ma la Ellie Schlein ha recuperato molto bene. In Piemonte quattro province si sono espresse per il presidente della regione Emilia Romagna che ha raccolto oltre il 50% dei consensi. Quattro province invece hanno scelto Ellie Schlein che ha raggiunto poi nel complesso però il 38%. C'è da chiedersi dove andrà quell'11% che per il momento ha votato Gianni Cuperlo e l'1,3% che ha votato Paola De Micheli. Certo è che la città metropolitana di Torino, molto importante anche in termini di numeri, ha scelto Bonaccini. Ha vinto con il 55,4%. Ha fatto anche meglio a Novara. Per la Schlein si sono espresse le province di Cuneo, Asti, Biella e Alessandria. Anche gli ultimi sondaggi indicano una incertezza nel risultato finale. Vista la crescita di consensi, il recupero è avvenuto da parte di Ellie Schlein che partiva invece nettamente sfavorita. La scelta sarà questa domenica 26. In città di Alessandria ci saranno quattro seggi sui 32 allestiti in provincia. Si voterà nella Federazione PD in Via Claro, alla Soms di Corso Acqui, nella sede di Articolo 1 in Via Palermo e al Circolo di Spinetta, poi nei centrizona della provincia di Alessandria e molte località circostanti. La centrale del latte di Alessandria e Asti ha ottimi riscontri sul mercato, ma il Consiglio di Amministrazione si trova in una situazione critica a causa di diversi punti di vista sul futuro e sulla scelta di nuovi partner commerciali. Stamattina si è tenuta l'Assemblea Generale che avrebbe dovuto decidere sull'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione dopo che quattro consiglieri, compreso il Vice Presidente, si erano dimessi 15 giorni fa. La prima riunione dei soci di questa mattina però non è bastata. È stato infatti deciso di rinviare tutto a un nuovo incontro. Per venerdì mattina il comune, socio importante della centrale del latte, e proprio questa mattina il sindaco Giorgio Abbonante, prima di prendere una decisione sul futuro Consiglio di Amministrazione, ha chiesto di poter vedere il piano industriale dell'azienda e anche una relazione sulle decisioni strategiche per il futuro su cui intende muoversi il nuovo CDA. Il PNRR ha stanziato 3 milioni e mezzo di euro per un progetto nazionale legato allo stoccaggio e al trasporto di idrogeno. Si chiama EcoStore H2 e ha l'ambizione di produrre dai rifiuti nuovi materiali sostenibili. È l'Università del Piemonte Orientale, capofila di un percorso che durerà tre anni e coinvolgerà altri enti e realtà industriali. La nostra Alessandra Dellacca è entrata in laboratorio e ha intervistato Leonardo Marchese, che è il direttore del DISIT di Alessandria. Professor Marchese, cosa sono questi materiali e in che cosa si possono trasformare? E quali benefici a livello ambientale? Bene, allora questi sono materiali di scarto, li potete facilmente riconoscere. È polistirolo, sono polistiroli che si utilizzano negli imballaggi per trasportare le merci. Naturalmente sono dei rifiuti abbondanti, perché vengono utilizzati in grande quantità. E allora uno dei modi per trasformarle è portarle in discarica o nei termovalorizzatori. Altre modalità è quella di trasformarli in un materiale a più alto valore aggiunto, che possa essere utilizzato in un altro modo. Un modo possibile è trasformare questo materiale in un materiale che ha un'altissima capacità di immagazzinare, di catturare molecole. Molecole di varie dimensioni. Questi materiali sono già utilizzati nel campo dell'inquinamento per eliminare molecole inquinanti dall'atmosfera. Un esempio di applicazione di questi materiali porosi la possiamo vedere qui in questi due contenitori. Nel primo contenitore colorato c'è un inquinante, che è appunto un colorante, e sotto c'è il materiale adsorbente. Vedete che dopo qualche ora l'acqua viene completamente decolorata. Il materiale adsorbente ha sequestrato completamente l'inquinante. In questo caso il progetto prevede il disegno, la progettazione specifica di materiali che hanno una porosità adatta ad intrappolare grandi quantità di idrogeno, che è il vettore energetico del futuro perché il passaggio poi va verso quella che sarà lo sviluppo dell'auto elettrica. Quali benefici immediati? Questo polimero ha già una sua porosità che quindi può essere utilizzato per varie applicazioni, soprattutto nell'ambito dell'inquinamento ambientale, ma trasformato in un carbone attraverso opportuni accorgimenti che ha uno sviluppo così elevato di volume vuoto all'interno delle particelle solide. Ecco, questo volume vuoto può essere riempito con dei gas, l'idrogeno specificamente. Ora, qual è il vantaggio di riempire la bombola con un materiale che è in grado di intrappolare grandi quantità di gas, di idrogeno? Il vantaggio è che puoi lavorare a pressioni molto più basse e quindi con una tecnologia che rende più sicura il trasporto delle bombole, quindi meno pesanti anche, e stoccarle nella stessa quantità. Davvero interessante. Ebbene, vi lascio allo sport, poi le previsioni del tempo e il TG7 Sport. Grazie per averci seguito, arrivederci.